Valuto i vostri disegni. Parte 40 Fare una scena è davvero molto complicato, ci sono tantissime cose da considerare. Mi piacciono tantissimo i dettagli per quanto riguarda i draghi, gli alberi e le montagne sullo sfondo. Poi si è stato davvero molto attento alla direzione della luce e alla posizione delle ombre. E fare la neve è molto difficile, sembra troppo piatta. Poi non mi piace assolutamente la coda in questo modo per farla rientrare nel foglio e si è stato molto superficiale in questo punto. Voto 9,5 Per la tua età le proporzioni in generale vanno abbastanza bene ed hai fatto una scelta saggia cambiando la prospettiva da tre quarti a quella laterale. In questo modo ti sei semplificata un po' la vita, però fai attenzione alle proporzioni del naso e l'occhio è troppo grande. In più definisci meglio il disegno. Voto 6 Tarò sincero, questo disegno secondo me è quasi perfetto. Mi fanno impazzire i dettagli degli occhi, dei capelli, i riflessi sui capelli, giochi di luci, le ombre. È praticamente quasi perfetto. Ma non capisco per quale assurdo motivo alcune lentigini le hai fatte molto scure e le hai posizionate sulle labbra. Vabbè, voto 10. 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 Grazie a tutti.